La novità è finalmente arrivata, gli NFT su Bitcoin. Ma come si comprano questi cosiddetti ordinals? Quale marketplace li supporta? O ancora meglio, quale wallet utilizzare? Lo vediamo in questo video. Tra Bitcoin ed Ethereum c'è sempre stata una differenza grossa così. Non avete capito di cosa parlo? Beh, tutti quei servizi di finanza decentralizzata, come NFT e DAP, ovvero applicazioni decentralizzate, che esistono da tempo sulla blockchain di Ethereum ma che non sono mai esistiti fino ad ora sulla blockchain di Bitcoin. Infatti la sua è rimasta una blockchain pura, se così possiamo dire, ovvero che gestisce solamente i trasferimenti di criptovalute. Questa differenza non era dettata dal fatto che non si volesse qualcosa del genere anche su Bitcoin, ma più che altro per ragioni tecniche e strutturali, che ora nemmeno vi spiego, tutti i servizi di finanza decentralizzata, la cosiddetta DeFi, erano un'esclusiva della blockchain di Ethereum, o comunque di tutte quelle blockchain e VM compatibili. Ma ora le cose non sono più proprio così, grazie ad un innovativo protocollo che è stato creato dopo l'aggiornamento della blockchain di Bitcoin a TapRook, aggiornamento che ha permesso transazioni più sicure e complesse sulla blockchain di Bitcoin e che l'ha resa orientata agli smart contract. E recentemente, dopo più di un anno a questo aggiornamento TapRook, più precisamente il 14 dicembre 2022, è stata effettuata la prima transazione Ordinalz. Questo protocollo sviluppato da Keisei Road Armor permette, per farvela proprio semplice, di immagazzinare delle informazioni sui nodi della blockchain. Ordinalz infatti trascrive i dati, come immagini, video o testo, sui singoli satoshi. Un satoshi è l'unità più piccola di un Bitcoin e tenete conto che ogni singolo Bitcoin è suddiviso in questi satoshi che vi lascio qui a schermo perché ora nemmeno me li ricordo per quanti sono. Senza farla troppo lunga, queste informazioni vengono associate ad un satoshi tramite un codice chiamato Ordinalz, che permette di dar vita a quelli che lo stesso creatore definisce artefatti digitali, molto simili agli NFT che noi tutti conosciamo ma che comunque non sono la stessa cosa. Infatti, a differenza dei classici NFT che sono dei Not Fungible Token, ovvero dei token non fungibili, un Ordinalz è sia fungibile perché abbiamo il satoshi, ovvero una porzione di criptovaluta, sia non fungibile per questi dati aggiuntivi che immagazzina al suo interno. Per ricevere e detenere i Ordinalz ci serve un wallet che si è aggiornato a TapRook. Uno di questi è l'Ordinalz Wallet. Per scaricarlo, come per qualsiasi altro portafoglio di criptovalute, cliccate su Create New Wallet, qui di nuovo Create New Wallet, mettete una password, cliccate su Generate Seed Phrase, ve la salvate e alla fine vi ritroverete nella schermata principale dell'Ordinalz Wallet. Come potete vedere qui in altro c'è l'indirizzo che inizia con BC1 e anche se questo indirizzo vi può sembrare particolare, è comunque un indirizzo aggiornato a TapRook. Attualmente stanno creando davvero tante collezioni sulla blockchain di Bitcoin, ma fate attenzione perché molte sono semplicemente delle repliche su Bitcoin di collezioni che sono andate molto forte su Ethereum. Tra l'altro mi è giunta notizia che Yugalabs, ovvero i creatori di Boredepiot Club, stanno per lanciare una collezione Ordinal. Una volta creato il vostro wallet, se voleste generare degli NFT, potreste usare ad esempio il sito di Gamma, che permette di creare appunto questi Ordinalz. Infatti da questa schermata, che tra l'altro vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione, cliccate su Ordinalz, Create Inscriptions e da qui potete caricare un'immagine, una serie di immagini o anche del testo. Ad esempio andiamo qui su Single Image, ci vado ad inserire come immagine un NFT della mia collezione su Ethereum, che tra l'altro vi lascio qui sotto in descrizione il link per mintare un mio NFT gratuitamente, e una volta inserito clicco su Continue. Devo anche tener conto che questa immagine è molto grande, è un 2000x2000, e infatti le gas fees da pagare sono molto alte, e come ci dice il sito stesso, questo può dipendere anche da un'alta risoluzione dell'immagine che andiamo a caricare. Vediamo che comunque non è proprio economico, infatti se scegliessimo l'economy fee sono 12 dollari circa, ma ci possono volere da ore a giorni. Se volessimo fare una cosa veloce, qui in un'ora più o meno, ma sono comunque 61 dollari, per mintare un NFT, e qui in custom fee possiamo decidere di aumentare queste fee quanto vogliamo per velocizzare la transazione. Ma capite bene che per creare una collezione di 10.000 Ordinalz, ecco, non è proprio economico. Seleziono un piano a caso solamente per andare avanti, e qui dovete capire un concetto fondamentale. Come ho detto ad inizio video, gli Ordinalz non sono altro che immagini, testo o video legati a dei Satoshi. Quindi voi nel vostro Ordinalz Wallet non dovete fare altro che detenere questi Ordinalz, senza mai usarlo per detenere dei Bitcoin. Perché in caso andaste poi a mandar via questi Bitcoin, quindi inviandoli ad un altro indirizzo, potreste erroneamente anche inviare i vostri Ordinalz, non essendone più di fatto i proprietari. Adesso io dalla mia schermata dell'Ordinalz Wallet vado su Receive, così che possa copiare il mio indirizzo, e tornando sul sito di gamma posso incollarlo in questo campo. Una volta incollato clicco qui su Continue, accetto tutte queste condizioni che mi vengono imposte, e per creare effettivamente il mio Ordinal dovrò scannerizzare questo QR Code e pagare l'amount che viene richiesto, e successivamente il mio Ordinal verrà inviato all'Ordinalz Wallet. Però per creare questo Ordinalz io non pagherò da quel Wallet, ma posso pagare da altri come ad esempio da Binance, da Ledger, semplicemente scannerizzando questo QR Code. Quindi anche se so che può risultare un po' complesso da capire, sull'Ordinalz Wallet dovrete solamente detenere i vostri Ordinalz, mentre per crearli dovrete pagare da un altro indirizzo per non perdere il possesso dei vostri Ordinalz che detenete sull'Ordinalz Wallet. Inoltre se voi voleste comprare degli Ordinalz già esistenti, potrete utilizzare un sito come ad esempio Ordinalz.ls, ovvero Ordinalz. Ecco, c'è da dire che non esiste un vero e proprio marketplace come OpenSea per Ethereum, ma qui si basa tutto sullo scambio tra privati. Quindi se io ad esempio vado qui sotto, clicco su Ordinalz.ls e mi apre tutta la collezione, e volessi comprare questo Ordinalz specifico, dovrei cliccare su I want to buy from this collection, e qui compilare tutti questi campi, ovvero il nostro username su Discord, così che poi il venditore ci possa contattare in caso fosse interessato. Qui sotto la nostra offerta in Bitcoin, e qui sotto le condizioni extra se abbiamo delle richieste particolari. Quindi capite bene che non esiste un vero e proprio marketplace dove poter mettere in vendita e successivamente comprare degli Ordinalz, ma semplicemente si basa tutto su uno scambio tra privati, ad esempio tramite questo sito, o magari se fate parte di gruppi Discord dedicati, dove le persone si scambiano gli Ordinalz all'interno, mettendosi però sempre d'accordo tra di loro, senza una piattaforma che fa da tramite. Io spero che questo video sulla novità degli Ordinalz vi sia piaciuto, e se così fosse lasciate like, iscrivetevi al canale, ed attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video sempre inerenti a questo mondo che è in continua evoluzione. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!